e torna con noi in diretta qui su Radio Elettrica in letture metropolitane il nostro Emanuele Rauco buongiorno Emanuele buongiorno Flavia, buongiorno Giovanni e buongiorno a chi ci ascolta siamo molto contenti perché insomma si stringe questo rapporto a parte con Emanuele che voi direte giustamente sono fatti vostri no sono anche fatti vostri esatto di tutti con il festival che lui finiscila, che lui rappresenta in questo momento di cui lui è direttore artistico ovvero Castiglione del cinema in questa versione diciamo autunnale perché possiamo dirlo fine estate autunno a Milano possono fare la fashion week raccontando autunno e inverno Castiglione non può fare l'edizione estate autunno la primavera estate adesso c'è l'autunno e inverno e la cosa divertente è che mantenendo il verbo stringere il rapporto si stringe ancora di più tra Castiglione e radioelettrica anche perché questa volta si devi preparare le valigie Flavia si esatto prepariamo le valigie perché saremo lì in loco io sono molto contenta non vedo l'ora di partecipare a questa manifestazione Emanuele come stanno andando intanto i preparativi ma bene ovviamente il primo giorno oggi quindi si esatto fa freddo ci dobbiamo portare il maglione no allora il tempo è bello il weekend forse si abbassa un po' la temperatura però cioè comunque una giacchina leggera basta però invece per ora c'è sole c'è abbastanza caldo e poi siamo sul lago quindi l'atmosfera è abbastanza bella e sì il festival di fatto inizia poi oggi pomeriggio però in realtà siamo già alle prese con le scuole a quelle di chiamo le mattine e i preparativi vanno bene stiamo finendo di montare le ultime cose di ultimare gli ultimi dettagli siamo pronti oggi per partire e l'evento di apertura Marco Tullio Giordana che viene appunto il regista della meglio gioventù dei cento passi i suoi due film più famosi probabilmente che viene a presentare il suo nuovo film recentissimo uscito da un mesetto circa che si chiama La vita accanto e che è una storia tratta da un romanzo abbastanza apprezzato scritto da Marco Tullio Giordana Tullio Giordana insieme a Marco Bellocchio e non vi sto a raccontare la trama ma è appunto è un tentativo riuscito secondo me di mettere insieme alcune influenze appunto del cinema di Bellocchio che sia quello del rapporto con la madre con la famiglia rapporto burrascoso conflittuale ma necessario in un certo senso e anche degli elementi appunto fantasmatici notturni con invece l'eleganza sentimentale che è propria di Marco Tullio Giordana Giordana sarà il premio alla carriera di quest'anno che assegniamo e verrà oggi pomeriggio alle 18 circa a Piazza Mazzini ecco una delle cose che mi piace di più sottolineare di quest'anno delle due grandi novità di quest'anno rispetto alle cose che abbiamo fatto nell'anno scorso è intanto il ritorno degli incontri in piazza a Piazza Mazzini quindi nel centro storico del Borgo gli ospiti del festival si racconteranno al pubblico e interagiranno quando possibile con il pubblico del festival prima di presentare i loro film al nuovo cinema Caporali che è il cinema che ci accoglie e poi anche il fatto che nei pomeriggi ci sarà un concorso per la prima volta abbiamo un vero concorso di opere più o meno inedite molto spesso sono opere mai viste in Italia o poco viste in Italia quindi anche indipendenti dal punto di vista produttivo nella maggior parte dei casi e appunto Marco Duglio Giordana poi verrà a presentare questa sera il film d'apertura e ritirare il premio alla carriera con noi e spero con tutti voi che volete venire da noi ecco è perché è importante sottolineare che l'ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito esatto si svolge a Castiglione del Lago provincia di Perugia ma esattamente dovete andare al nuovo cinema Caporali oppure a Piazza Mazzini da noi finiamo la trasmissione oggi chiudiamo le valigie prendiamo la macchina partiamo e già da domani noi saremo là proprio fisicamente esatto fino alla fine quindi se volete oltretutto c'è la programmazione ma vediamo i film insieme perché io sono molto molto curioso e voglio vedere sia il concorso sia i cortometraggi ma voglio anche un po' respirare l'aria delle scuole perché la mattina c'è tutto un pullulare di giovani virgulti certo una cosa velocissima sul concorso scusami Emanuele poi andiamo sugli ospiti più importanti come è andata la scelta perché sono sempre molto curiosa di queste cose vedo appunto tu dicevi ci sono molti film che vengono dall'estero come li trovate come li scovate arrivano come è andata e poi quali sono un po' i criteri anche se immagino siano molto diversi allora diciamo che essendo un vero primo anno uno perché l'anno scorso quello che avevamo fatto a settembre era un anno zero quindi un po' più una rassegna per far ritrovare al luogo al territorio e al cinema stesso che aveva riaperto da pochi giorni il senso della proiezione in sala e poi ad aprile abbiamo fatto uno spin off dedicato alle opere prime agli esordienti agli emergenti questo è un vero e proprio festival e come come primo anno diciamo che il senso era più ampio e aperto possibile sono arrivate 3.000 più di 3.000 opere tra lunghi e corti perché abbiamo abbiamo voluto proprio perché era il nostro primo anno fare l'iscrizione gratuita quindi si sono iscritti veramente da opere come dire professionali cioè di alto livello produttivo che diciamo anche non necessariamente indipendenti cioè che avevano anche delle coproduttive produzione con con la tv di stato non solo italiana ma anche nel resto del mondo ha invece opere più piccole più indipendenti più sperimentali potremmo dire così io devo dire grazie lo dirò fino alla fine dei miei giorni a Francesco Delgrosso che è un critico cinematografico è un regista cinematografico e che siccome è venuto è stato un amico di Castiglione è venuto nelle due scorse manifestazioni che abbiamo fatto e quest'anno lui mi ha dato diciamo mi ha dato una mano e un eufemismo mi ha dato due mani due piedi e anche parecchia testa per vedere le 3000 opere selezionate cioè che si sono iscritte e aiutarmi a fare appunto una scrematura molto ampia da qui abbiamo tratto i sei lunghi e gli undici corti che vengono da tutto il mondo nei lunghi ci sono quattro lunghi italiani però poi ci sono un film statunitense e un film egiziano mentre il come dire lo spettro è più ampio nei corti perché ci sono veramente da tutto il mondo c'è l'Iran c'è la Cina ci sono gli Stati Uniti c'è la Francia ovviamente c'è l'Italia e noi abbiamo visto film che arrivavano da veramente tutto il mondo anche da nazioni che uno non pensa ci siano delle cinematografie tipo le isole Samoa o luoghi appunto che non associamo immediatamente al cinema e questo appunto quindi la scelta uno la fa dal punto di vista della qualità visto che abbiamo così tante opere è più facile trovare i film belli e dall'altra parte però appunto cercare di rendere la diversità alla nostra prima edizione non possiamo che avere come linea editoriale mettere tutto quello che è possibile dentro dal punto di vista dei luoghi geografici ma dal punto di vista anche degli stili dei generi per esempio c'è c'è un ampio catalogo di genere c'è ci sono i film di animazione c'è la commedia ci sono ovviamente dei film più come dire anche dal punto di vista stilistico riconducibili al festival a un festival di cinema però d'altra parte ci sono anche dei mockumentary dei film comici insomma e con un occhio anche sul genere che c'è che mi ha fatto molto piace ritrovare il film statunitense in lungometraggio è un film di fantascienza il film egiziano è un noir thriller invece per quanto riguarda gli ospiti gli ospiti diciamo quelli i nomi anche perché effettivamente i festival sono fatti anche di nomi bisogna dirlo però in questo caso i nomi fanno il match diciamo tra fama e anche interesse cioè cose interessanti che hanno da raccontare e da dire quali sono questi ospiti sì allora oltre appunto abbiamo detto il premio alla carriera noi diamo un paio di premi sempre onorari uno è il premio alla carriera come diceva Marco Tullio Giordano l'altro è un premio dedicato a un grande personaggio umbro anzi perugino nella fatti specie ovvero Enrico Vaine che è stato un grande drammaturgo scrittore di radio scrittore di televisione commediografo cinema insomma ha declinato tutti i mezzi dello spettacolo attraverso un modo di essere brillante e però serio allo stesso tempo e quindi in onore di questo di questo grande personaggio dedichiamo un premio personaggi particolarmente brillanti duttili e versatili che sanno saltare tra le varie sfumature quest'anno il premio Vaime va a Pilar Fogliati che è una delle giovani attrici di commedia più interessanti brillanti candidata già a grandi premi e viene non solo a ritirare il premio domenica sera durante la domenica pomeriggio durante la cerimonia di premiazione e chiusura ma anche a presentare il suo film più recente che si chiama Finché notte non vi separi insieme a Filippo Scicchitano e quindi saranno lì sul palco per raccontare questa commedia che appunto è una commedia ai tempi della Hollywood classica si parlava di commedia di rimatrimonio e questa invece è una commedia in cui già la notte delle nozze qualcosa non torna e quindi devono cominciare a ragionare su loro stessi poi visto che dicevo che i generi per noi sono una grande risorsa giovedì 26 quindi domani sera presentiamo uno di quei film che sta cercando negli ultimi anni di rilanciare il genere ma non solo rilanciare il genere come atmosfera proprio rilanciarlo come pratica anche come pratica artigianale rifacendosi a quel modo di intendere l'horror in questo caso che ha reso grande il cinema italiano e tuttora lo rende grande perché i film più amati all'estero italiani sono quelli di Mario Bava di Dario Argento di Ruggero Deodato eccetera e avremo Federico Zampaglione che oltre a essere un cantante stimato anche con il tiro mancino è un regista di horror soprattutto e viene a presentare il suo ultimo film The Well che è un film horror piuttosto violento piuttosto disturbante soprattutto per chi ama quel modo di intendere l'horror Flavio è già sotto cassa io sono già contente sulla transigna e sì appunto quindi sono quei moduli classici però rivisti dall'occhio contemporaneo dall'atmosfera contemporanea e lo presenteremo appunto sabato sera giovedì sera scusate e lui viene in piazza a raccontare il suo amore per il cinema il suo amore per l'horror e quindi poi noi lo premieremo in un certo senso come ambasciatore nel mondo visto che poi il film ha fatto il giro del mondo e lo continua a fare anche è uscito negli Stati Uniti sta per uscire in Inghilterra come ambasciatore di una via italiana totalmente indipendente e autarchica diciamo così di intendere un vero e proprio atto di fede verso questo modo di intendere il cinema venerdì l'incontro pomeriggiamo diciamo ci saremo anche noi esatto il 26 pomeriggio diciamo sera 18 e 30 diciamo dal 18 e un quarto 18 e 30 ora si stacca dal lavoro e si viene in piazza a godersi l'aperitivo mentre si ascolta delle chiacchierate spero piacevoli e interessanti e poi il venerdì avremo Lucia Ocone che è un'altra attrice brillante divertentissima soprattutto per chi ama la televisione che ha ha fatto furore qualche anno fa con i personaggi della Gialappas tornando poi recentemente alla Gialappas Band e però è anche una bravissima attrice teatrale e cinematografica tanto di commedia ma non solo e verrà anche lei appunto venerdì pomeriggio a presentare a raccontarsi a raccontare la sua idea di commedia la sua idea di risate però anche a raccontare la sua carriera come attrice anche qui d'utile e spazia dal teatro alla televisione al cinema e poi sabato avremo appunto come ospite Yari Gugliucci che è un attore di cui magari il nome non vi dirà molto ma se lo vedete lo riconoscete perché ha fatto moltissimi film e moltissime serie televisive e lui è ospite perché lui ha avuto il privilegio negli ultimi trent'anni di essere non solo attore per ma anche amico di Lina Wertmuller e su questa amicizia su questo rapporto lui ha realizzato un film che si chiamiamolo documentario però in realtà è veramente una confessione a cuore aperto del suo rapporto con Lina non solo parlando direttamente agli spettatori ma anche raccogliendo i filmati che lui lungo questi trent'anni ha registrato insieme a Lina Wertmuller il film sarà presentato ovviamente sabato sera durante la serata è un cortometraggio però lui poi verrà sabato pomeriggio a far raccontarsi al pubblico e sabato poi ci sarà anche uno dei due omaggi quest'anno cadono due centenari di due grandi attori del cinema italiano uno celebratissimo e tra l'altro proprio noi lo festeggeremo perché sarà il 28 settembre il giorno del centenario ovvero Marcello Mastroianni sabato ci sarà un incontro in piazza tenuto da Laura Dell'Icolli che ha da poco dedicato alla mostra del cinema di Venezia una mostra fotografica a Marcello Mastroianni quindi ci racconterà un po' qualcosa di questo grande attore e poi la sera in piazza e scusate al cinema avremo la proiezione di Sostiene Pereira che è l'ultimo film di produzione italiana interpretato da Marcello Mastroianni diretto da Roberto Faenza a cui poi ho fatto un'intervista che aprirà il film non può essere presente quindi mi ha rilasciato una breve intervista in video e Sostiene Pereira tratto dal famoso libro di Antonio Tabucchi e poi invece l'altro grande omaggio lo facciamo venerdì 27 ed è un omaggio a Walter Chiari che dei due omaggi è quello meno celebrato è stato un grande attore ma siccome non è stato un grande attore di cinema o meglio il cinema lo ha usato tra virgolette e di film che lui amava di quelli che ha fatto ce ne sono veramente pochi uno è quello che proporremo ed è più un attore di televisione di avanspettacolo quindi per questo un po' dimenticato nei centenari beh noi io penso che sia stato un grandissimo attore e anche come dire tangente il genio diciamo così quindi venerdì pomeriggio ci sarà Michele Sancisi che è uno dei due autori della biografia Walter 100% uscita da poco per la nave di Teseo e voi appunto tu Flavia e Giovanni sarete con me a presentare questo libro e quindi a parlare partendo dal libro a parlare di Walter Chiari come protagonista di un'epoca dello spettacolo italiano e poi la sera presenteremo Io, io, io e gli altri che è un film del 67 diretto da Alessandro Blasetti che è stato un altro grande nome del cinema italiano prima del neorealismo e che in questo film che è uno dei suoi ultimi film tra l'altro usa Walter Chiari un po' come alter ego e soprattutto con un modo molto particolare cioè se Walter Chiari appunto è un attore comico e solo in vecchiaia ha potuto accedere a ruoli più complessi in questo caso invece Blasetti aveva già visto lungo e è il filo conduttore di una sorta di indagine sociologica sul tema dell'egoismo che poi diventa come appunto nel cinema italiano degli anni 60 una commedia cinica che però ha anche una profonda morale e anche una serie di invenzioni narrative che che non vi rivelo per farvele godere quando verrete a Castiglione Quindi come vedete il programma è decisamente pieno ricco avremo dal 25 al 29 settembre quindi in questi giorni tantissime cose da vedere da vivere a Castiglione del Lago se passate da quelle parti ci sarà insomma molto da vedere se però per un qualsiasi motivo non potete esserci noi direttori metropolitane faremo delle incursioni esatto una serie di interviste oltre diciamo a coadiuvare Emanuele in alcune degli incontri e saremo un po' i vostri occhi e le vostre orecchie ovviamente non per i film perché i film vanno visti però possiamo raccontare qualcosa ascoltare qualcosa io poi non ho citato non ho citato i film in concorso ce ne sono alcuni anche insomma molto interessanti ma non li ho citati per non far torto a nessuno quindi poi andate sul sito di Castiglione del Cinema castiglione del cinema punto it c'è il programma e potete andarlo a scoprire veramente premo moltissimo sul fatto che è un festival con ingresso gratuito a tutti gli spettacoli fine esaurimento posti tra l'altro volendo se volete potete anche appunto scrivere alla pagina facebook di Castiglione del Cinema per prenotarvi se volete proprio essere sicuri al cento per cento e se volete vedere i film anche con noi Flavia parla mentre vedi non è vero non sempre quando sto al cinema però bassa voce ma certo ma non è vero sicuramente faccio le facce quello sì quindi se volete vedere le facce di Flavia Capone illuminate dallo schermo d'argento di Castiglione del Cinema correte organizzate una gira fuori porta oppure venite veramente proprio per vedere le facce di Flavia oppure se volete seguire l'incontro in piazza mi sembra più interessante ci vediamo lì letteralmente da Roma io penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori sia a Roma così non è che troppo c'è della varietà comunque diciamo che da Roma sono un paio d'ore di treno e anche un pochino meno di auto sì per cui è abbastanza fattibile da qualsiasi parte insomma abbiate voglia di raggiungerci noi vi aspettiamo a Castiglione del Lago per Castiglione del Cinema grazie mille Emanuele Rauco ma grazie a voi ciao 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 ciao